Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, è intervenuto alla manifestazione nazionale FIAIP a Roma, se riparte l'immobiliare riparte l'Italia, giù le mani dal mattone, sostenendo che Quando non va l'immobiliare niente va. Io in particolare sottolineo che i maxi economisti sono capaci di gestire con superbia satanica le strumentazioni che possono portare qualche cosa di nuovo all'economia, ma che non sono capaci, meno che mai, di tirarci fuori dalle crisi. E Inaudi sapeva, come ho detto, che il mercato è fatto di milioni e milioni di sensazioni. Credere di orientare il Senato e la Camera in un modo che sia foriero, di situazioni nuove e diverse non è veramente la strada giusta. Occorre che si ripristini in Italia quella fiducia che, come avevo detto nell'intervento, avevano gli italiani quando avevano la garanzia della proprietà di una casa che invece adesso non hanno più perché la casa che avevano si è ridotta a un terzo del valore. Questo collegato, come dicevo prima, con il discorso delle curve dei consumi e delle curve dei prezzi delle abitazioni, che sono sempre analoghe, vuol dire che quando diminuiscono i prezzi delle abitazioni diminuiscono anche i consumi fatalmente, proprio per questo motivo.